Che belle bottiglie, create quando l'arte regalava forme, nomi affascinanti anche ai liquori Aurum, Cerasella, liquori, profumi, colori che saranno un capitolo del vero Vinitale delle aziende vinicole abruzzesi, ovvero il Pescara Abruzzo Wine, giunto alla sua sedicesima edizione dall'8 dicembre fino a domenica 11, dove, ma chiaramente all'Aurum, 4 giorni di degustazioni, mostre, convegni, con sullo sfondo anche la solidarietà a bottiglie di vino per le mense pubbliche dei più fragili e non solo, che edizione sarà? Allora sarà un'edizione boom, nel senso che anche quest'anno supereremo le 100 cantine partecipanti e soprattutto abbiamo dato un'articolazione alle manifestazioni in cui si prevedono due convegni sulle due nuove DOCG, uno sulla reintroduzione del nero di pietra lucente e contabiliamente facciamo due mostre collaterali, uno sui liquori antichi e un'asta sui vini offerti dalle cantine abruzzesi, il cui incasso sarà interamente voluto al Comune di Pescara. Vogliamo essere protagonisti assoluti perché questa manifestazione si svolge all'Aurum, che è il nostro elemento più caratterizzante, quindi mettere insieme le qualità delle attività enogastronomiche che noi abbiamo con un edificio che è storico ed è di grandissima qualità, con la solidarietà contribuisce comunque a far crescere il nostro territorio. È sicuramente un momento di grande cultura perché la cultura non è solamente ammirare un quadro, vedere uno spettacolo, è anche la valorizzazione del territorio e di tutte le eccellenze del nostro Abruzzo e sicuramente questo evento lo è. Come va il settore? Il settore è in costante crescita, per fortuna, diciamo che i premi che nell'ultimo anno hanno conquistato il cantine abruzzese sono considerevoli e la partecipazione al nostro concorso di oltre 100 cantine dimostra che c'è una grande vitalità. Il vero vinitele delle aziende abruzzese, quante sono le aziende abruzzese? Allora, le aziende abruzzese attualmente ammontano cantine totali, importanti a 150, da noi ce ne vengono più di 110. La frase che lei sta ripetendo l'ha detta il nostro concittadino a metà abruzzese, il grande Luca Maroni, che visto la manifestazione ci ha regalato la sua frase, il vero vinitele dell'azienda abruzzese, di cui siamo orgogliosi.